25 imputati, oltre 2000 parti civili, più di 60 avvocati. È partito presso il Tribunale di Arezzo il processo per il crack di Banca Etruria. Il filone di inchiesta è quello della bancarotta semplice e fraudolenta. Sotto accusa i membri degli ultimi CDA di Banca Etruria, tra questi l'ex presidente Lorenzo Rosi e due ex vicepresidenti Giorgio Natalino Guerrini e Giovanni Inghirami, tutti assenti questa mattina. Se non ci saranno esigenze che li debbano vedere presenti, credo con buona possibilità non ci saranno. Tra le richieste di costituzione di parte civile presentate nel corso dell'udienza anche quella della vedova di Luigino D'Angelo, il pensionato di Civita Vecchia che si uccise nel 2015 dopo aver perso 100.000 euro con il crack dell'Istituto Aretino. Si sente una vittima perché ha sempre sostenuto che il suicidio del marito dipendesse direttamente dalla perdita economica derivante dalla sua titolarità di titoli di Banca Etruria. Sono circa 200 le richieste di costituzione di parte civile che si vanno ad aggiungere alle oltre 2.000 già accolte, tra queste anche quella del liquidatore Giuseppe Santoni. è stata sua la richiesta di sequestro conservativo dei beni immobili di 16 e 25 imputati che il Tribunale di Arezzo ha accolto alcuni giorni fa. Anche il Comune di Arezzo e le due associazioni di consumatori, Adusbef e Feder Consumatori, tenteranno di nuovo di potersi costituire parte civile. Perché riteniamo che un'associazione che da sempre si è battuta, che ha nel suo scopo sociale la tutela e la difesa anche dei risparmiatori, la tutela del risparmio, sia una delle parti offese in una vicenda che oggettivamente è danneggiata non solo le persone ma l'intera comunità. Il Comune chiede danni perché ritiene di essere danneggiato da danni patrimoniali, danni da perdita di chance e danni all'immagine. La prossima udienza è stata fissata per il 19 aprile, sarà dedicata alle richieste di costituzione di parte civile. Le difese infatti potrebbero chiederne l'esclusione. La presenza del curatore, o meglio del liquidatore giudiziale, impedisce la partecipazione degli azionisti e degli obbligazionisti se evidentemente la loro pretesa non è basata su un titolo personale. Per l'inizio dell'istruttoria vera e propria si dovrà poi attendere il prossimo settembre. C'è infine una nuova richiesta di archiviazione per Pierluigi Boschi, ex vicepresidente dell'Istituto di Credito per il reato di bancarotta fraudolenta contestato per la liquidazione da 700 mila euro all'ex direttore generale Luca Bronchi. Il fascicolo era stato stralciato nell'autunno 2018 e la richiesta di archiviazione è partita a dicembre firmata dal pool di magistrati che indaga sul crack. Adesso è attesa la decisione del GIP. Se accoglierà la richiesta accadranno tutte le contestazioni penali contro il padre dell'ex ministra Maria Elena.